Dal punto di vista climatico, il 2017 non è stato un anno favorevole agli Stati Uniti, a confermarlo l'annuale rapporto del NOA, l'Agenzia federale statunitense, che si interessa del meteo e del clima. Un'annata di record in negativo, una delle peggiori sotto il profilo delle vittime. Ben 362, in pratica un americano al giorno, ha perso la vita a causa di un disastro ambientale. E disastroso sotto il profilo economico. Dalle casse dell'amministrazione sono usciti oltre 300 miliardi di dollari per far fronte alle emergenze e ai danni provocati da siccità, incendi, uragani e inondazioni. Inoltre, il 2017 è il ventunesimo anno di fila con le temperature superiori alla media e quando è piovuto, le precipitazioni più copiose. Dal 1980 ad oggi, inoltre, gli Stati Uniti hanno subito 219 disastri climatici.